Francesco Ciola, grandissima, bellissima battaglia questa seconda Manche, chi vinceva la gara di giornata, classifica di giornata, alla fine si è riuscito a spuntarla, complimenti, hai approfittato di quella spavatura. Ho approfittato dell'errore di Max perché anche lui andava forte, poi qua è difficile passare, però lui ha fatto un piccolo errorino magari di distrazione perché anche lui eravano tutti e due sotto pressione, un errore facevo io, un errore lo faceva lui, chi faceva meno errori vinceva e per fortuna lei sono stato io. Complimenti i tuoi bellissimi primi posti, quindi chi ben comincia come si dice? Ah non lo so, è metà dell'opera. Io penso di fare solo questa qua perché era la più vicina a casa alla fine perché sono a 45 minuti da qua, sono divertito, la pista bellissima preparata in modo eccezionale, sempre fresata, bagnata, bellissimo. Complimenti, a dopo, ciao.